Ciao a tutti! Oggi prepareremo la chisci piselli ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono una dosi di pasta briseo pasta al vino, uova, latte, ricotta, piselli rissati, parmigiano, sale, pepe e noce moscata. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccano il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo la ricotta, le uova, il latte, il pepe, il sale, la noce moscata. Chiudiamo con il coperto e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità a 4. finire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la parte del parmigiano. Chiudiamo con il coperto e il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità a 3. Aggiungiamo i piselli. Facciamo amalgamare per 10 secondi, anti-orario, velocità a soft. Il composto è pronto, versiamola sulla pasta brisè. Spolverizziamo con il resto del parmigiano. Chiudiamo i bordi. Cuoce in forno prediscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La chiscia è cotta, lasciamola raffreddare prima di servire. Chisci piselli e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.